ciao raga bentornati sul mio canale youtube oggi altra review altri quattro giocatori di questo food birthday andiamo a vedere come si comportano in game infatti su aretz cross alan e il buon grilish mettetevi comodi e gustatevi questa review partiamo proprio da alan centrocampista molto versatile che però come potete vedere da queste prime immagini palla al piede non c'è quella caratteristica del centrocampista totale che si ricerca adesso che comunque è l'agilità che ti permette anche di poter poi innescare i propri compagni guadagnando tempi di gioco poi per carità come potete vedere è bravo nelle intercettazioni quando andate a controllare anche ottimo nelle uscite anche un discreto speed boost quando deve dare degli strappi per per potersi lanciare poi in in zona offensiva in particolare qui anche cross un altro giocatore che poi vedremo bene più avanti è abbastanza brava ad intercettare anche se poi palla arriva grilish che davanti la porta non si mostra un finalizzatore implacabile qui vedete ancora una volta in questo doppio frangente con il raddoppio alano come se la sia cavata bene passiamo a grilish che per quanto riguarda speed boost devo dirvi veramente sorprendente mi è piaciuto tantissimo lo speed boost di questo grilish pecca un pochino la finalizzazione guardate qui come l'ha sparata alle stelle con un tiro normalissimo però anche per quanto riguarda poi invece il controllo palla come potete vedere da queste altre immagini se la cava molto bene io ero preoccupato un po dal suo body type però devo dire che invece si è dimostrato un ottimo giocatore poi destro sinistro va bene che era facile ma non è detto perché quelle occasioni spesso e volentieri vengono sbagliate tratta benissimo il pallone con questi tocchi di precisioni mi ha veramente mi ha veramente colpito guardate qui come poi da questi strappi e può servire i propri compagni qua su ares col mancino si è rivelato un po ambiguo ma lo vedremo meglio dopo qua io ho provato il tiro a giro dalla classica mattonella col verde suo piede forte palla che non ha preso manco la porta sta cosa mi ha mi ha lasciato un po così cross veniamo al centrocampista del real super overprezzato come potete vedere per carità diciamo che ha dei momenti di intercettazione abbastanza buono ma non da centrocampista top attuale come potete vedere anche lui risulta abbastanza impacciato quando lo muovete con la palla tra i piedi ma soprattutto la cosa che ho riscontrato è che fondamentalmente sembra un po goffo quando va a fare queste cinque skill insomma come se non fosse minimamente abituato no al convente avendo non avendo questa questa skill abituale il giocatore sembra non rispondere bene proprio quindi è una aggiunta che lascia un po il tempo che trova per quanto riguarda il 5 di piedi deboli invece devo dire si sente anche per quanto riguarda qui vedete con questi con questi passaggi forti che vengono fatti bene vedete le intercettazioni che il loro lo fanno passiamo al man of the video perché suarez è sicuramente uno dei giocatori più in hype di questo footbird e avete già visto il grandissimo speed boost che ha questa carta qui avete anche poi potuto apprezzare un paio di conclusioni che però sono state intercettate all'estremo difensore qua ancora una volta gran speed boost gran tiro con il verde a freddare l'uscita del portiere ancora una volta qui arrivato dentro l'area si dimostra abbastanza freddo quando c'è da finalizzare con queste conclusioni ad incrociare anche per quanto riguarda fisicamente vedete qui come tiene tiene botta alla croix che è uno dei difensori insomma più utilizzati in questo periodo no nello stretto come potete notare fa un po fatica sicuramente non è proprio il giocatore ideale sotto sotto questo profilo però guardate ancora una volta qua che bello speed boost ne fa uno ne fa due arriva davanti la porta e poi spara una mina veramente dove il portiere non può non può fare nulla anche lui con questo 5 skill vedete sembra un po masticato nei movimenti pure quando fa l'elastico sembra come se fosse un po un pesce fuor d'acqua ecco tiro a giro con il più piede non forte che si stampa sulla sulla traversa insomma sempre stato comunque molto buono con con i tiri a giro qua ancora un grandissimo speed boost movimenti dentro l'area di rigore che non sono tre più agili però se utilizzato bene vi permette di poter gestire bene questo giocatore però vedete come alle volte sbagli delle conclusioni abbastanza semplici qua grande gol invece in sforbiciata qui con il mancino ancora una volta poco poco costante quello che vi dico è che un buon giocatore non vale mai tutti quei crediti il prezzo sarebbe di 6 700 mila ma al momento non mi sento di consigliarlo perché un buon giocatore ma niente di più allora raga dopo averli provati è il momento di tirare un po le somme primo giocatore che vi vado ad illustrare e cross allora partiamo innanzitutto dal fatto che quel rendimento normale normale un po lo penalizza perché quando lo selezionate lo mettete sulla linea di passaggio eccetera eccetera c'è come giocatore c'è anche con il raddoppio quando lo agganciate bene lo mandate a raddoppia la palla la recupera spesso però quando non lo selezionate alle volte un po passeggia un po pascola in mezzo al campo ti da l'idea di non sapere bene dove deve andare di qual il suo destino quindi già quello un po mi non mi ha convinto poi il 5 di pede debole si sente perché per carità col sinistro passaggi cross tiri insomma c'è però il 5 di mosse skill su un giocatore che non era progettato per avere 5 di skill non lo so sembra goffo cioè a skill non è agile non tiene la palla incollata al piede come fa non lo so non dico un nemar perché sarebbe sarebbe banale dire un nemar ma pur uno cristiano ronaldo no la palla la tiene molto più incollata al piede rispetto un cross che sembrava appunto un po un pesce fuor d'acqua no quando quando volevo fare cose un po più sofisticate poi per carità la cosa che mi piace veramente tanto è che quando fa gli speed boost dopo aver recuperato palla alle volte da veramente metri agli avversari quindi è tanta roba però poi quando arriva nella zona che conta quindi quando c'è da impostare fare qualche micro movimento per servire i compagni un po si sente con la sua macchinosità nonostante l'84 di agilità comunque il body type è quello che è quindi per come la vedo io il costo adesso è molto elevato ma giocatori in liga ce ne sono c'è de jong c'è valverde gli sono per me allo stato attuale superiori quindi non mi farei buttare fumo negli occhi da da cross capitolo a parte invece questo allan che è veramente una bella carta qui innanzitutto le cose iniziano ad allinearsi perché normale alto insomma fase difensiva al top tant'è vero che alcune volte me lo sono ritrovato dentro l'area dei difensori senza che abbia ripiega tra i difensori a recuperare palloni totalmente in maniera gratuita 4 di skill e 5 di piede debole anche per lui il sinistro non è un problema rispetto a cross è molto più agile palla al piede quando c'è da fare un passaggio nei metri finali ovviamente col tiro scordatevi di poter fare qualcosa passaggi ottimi devo dire la verità le intercettazioni 88 e la lettura difensiva 91 si fanno sentire però qual è il problema di sto allan che alle volte purtroppo visto il suo metro e 75 e non è colpa sua la mette la gamba ma passa scivola non ce la fa non ci arriva perché un po nano quindi questa è l'unica cosa che non mi è piaciuta però poi sta sempre sulla linea di passaggio estremamente automatico recupera veramente tanti tanti palloni e potete anche impostare discretamente bene nonostante non abbia la quinta di skill ma poco ci importa per per un mediano passiamo invece arrivato un po più avanzato è il primo che vi vado a raccontare grillish questa è una hidden gem assoluta perché costa veramente due lire alto di work rate in attacco e normale in difesa 5 di piede debole e 4 di skill da esterno funziona veramente una meraviglia si speed boost che non ve lo dico nemmeno è anche abbastanza agile palla al piede certo non è agile come un bel header no però è abbastanza agile per quello che mi aspettavo io mi immaginavo un giocatore molto piantato sotto questo profilo invece devo dire che non mi è dispiaciuto palla palla al piede dentro l'area di rigore io l'ho giocato anche da seconda punta e lì mi sembrava un po sparire non lo so veniva un po troppo a isolarsi fuori dall'area insomma non mi dava quel punto di riferimento che mi aspetto da una seconda punta è capitato che abbia buttato dentro dei palloni anche pesanti nei minuti finali ma questo è grazie al 93 di freddezza passaggi ottimi soprattutto driven a tagliare verso la punta e mandarla in porta forse quel 90 di agilità non è che si sente veramente per 90 però un 86 87 dai è un ottimo parametro considerando anche l'89 di equilibrio quell'83 di reattività potrebbe levemente penalizzare il giocatore però da esterno a me è piaciuto è piaciuto veramente tanto per quanto riguarda invece lo so quello che stavate aspettando tutti quanti luis suarez parliamone perché 5 di skill e 4 di piede debole così come per cross anche per suarez questo è un po una cosa che accomuna questi giocatori è che sta quinta di skill ma non lo so sembra che non la volessero cioè che non fossero proprio progettati no per peschi la perché anche lui quando fate l'elastico il reverse elastico tutte queste cose che insomma servono non lo so non mi soddisfa la palla gli scappa dai piedi si allontana troppo non c'ha subito il controllo del pallone per poter per poter concludere quindi si fa preferire per altro perché comunque dentro l'area di rigore se lo controllate con i micro movimenti ne sa quello 87 di agilità e con 97 di reattività pesano il 91 di forza invece non influisce troppo ad appesantire il giocatore c'ha uno speed boost che è eclatante vola è veramente una roba fuori di testa quel 97 di finalizzazione mi sembra un po too much perché comunque mi è capitato alle volte che davanti la porta non è che fosse proprio ice in his veins gliela tirava un po addosso ai portieri quindi è vero che gli attaccanti perfetti su sto gioco non esistono però per uno che c'ha 97 di finalizzazione 93 di potenza tiro e porca miseria costa un milione di dispari mi sarei aspettato qualcosina in più si può provare anche da coc vista l'agilità visti gli ottimi passaggi è anche un buon tiro a giro che che presenta sincero non mi sento di consigliarlo però al momento per via del prezzo perché è veramente alto questa è una carta che secondo me si deve aggirare intorno agli 8 900 proprio esagerando perché su ares gode di un hype clamoroso perché in liga magari c'è un po di carestia lì davanti no ovviamente ripeto non è una bocciatura però mi aspettavo un pochino in più dalla finalizzazione e il prezzo è veramente è veramente fuori mercato anche per questa review è tutto raga fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi giocatori e se li andrete a provare o li avete già provati e come vi sono sembrati vi ricordo in descrizione trovate tutti i link di riferimento in particolare della piattaforma viola dove sono live ogni giorno a me non resta altro che augurarvi una buona giornata un saluto da liberoschi ciao